Adesso il Porta Romana, ennesimo confronto diretto di alta classifica per la Rignanese che mantiene sì il secondo posto nel massimo palcoscenico regionale ma deve più fronteggiare per il momento la fuga di un Valdinievole reduce da cinque successi consecutivi che il ritorno della Baldaccio che ha comunque stavolta un impegno sulla carta non proibitivo come la Lanciotto. Per l'appunto a fare uno scherzo al lanciatissimo Marmorini fu Arcadio in quello che è ad oggi il suo unico successo sulla panchina della Castelnovese ed è proprio al Quercioli che stavolta arriva al Monte Catini, altra squadra dalle notevoli capacità realizzative come i Tiberini ma che al pari di loro concede qualcosa in contropiede. Però il principale problema per Coppi rimane il fare punti alle due strade. È vero che gli arancioneri non hanno tra le Muramiche un cammino invidiabile ma gli unici a festeggiare lì recentemente sono stati proprio solo i Termali. Con in più di un giocatore con le spalle l'influenza Coppi si presenterà comunque con la migliore formazione possibile in vista di un bivio. O la fuga del Valdinievole e l'aggancio da parte dei Fiorentini o l'allontanamento definitivo di questi ultimi dai sogni di gloria della Serie D.